amici di battista 70 phone oggi vi presento le bellissime nilk in nature sono delle cover siliconiche da 0,6 mm molto sottili per nexus 6 disponibili in colorazione completamente trasparente e chiara e colorazione leggermente più scura se vogliamo chiamarla fumet andiamo estrarla dalla sua scatola come vedete sempre prodotti originali nilk in particolarità di queste cover e di avere la possibilità di chiudere tutti gli ingressi di modo che non va ad entrare polvere e comunque rimangono bene accessibili una volta messi e avere una parte laterale con una zigrenatura di modo che il grip aumenta andiamo ora a mettere la nostra bella cover tanto col display ambiente tutte le volte mi si attiva il nexus 6 ok è molto stretta di modo che calza in maniera perfetta come potete vedere è praticamente invisibile sul retro lascia completamente tutto ben visibile ma la cam non appoggia sul tavolo perché c'è quel 0,6 mm che la tiene sollevata vedete i tastini hanno massima accessibilità andiamo a sbloccare giusto per farvi vedere il tasto del volume massima accessibilità nessun tipo di problema come vi dicevo possiamo coprire gli ingressi di modo che non entra polvere e ugualmente li possiamo poi andare ad aprire quando ci necessitano e devo dire che questa è una bella cosa qui abbiamo una scrittina nilkin testimonianza del fatto che originale il forellino è ben libero ottimo grip ripeto da questa parte abbiamo una zigrinatura che ci consente di tenere bene il nostro terminale senza che ci scivoli dalle mani e vi ricordo sempre che nel nostro shop trovate anche le bellissime ed utilissime pellicole vetro che vi salvano il display in caso di caduta frontale con questo concluso un saluto da loris alias battista 70 per battista 70 70 per centri e 30 per centri di base a un palliacuro di questo processo tutto ci in questo modo per la nostra informazione www.sblocca.it ed è un po' la sua potenza e anche sono un po' la sua consiglia di seguire l'alimentazione grazie a tutti i libertari legati che seguire l'alimentazione